allora eccoci qua terzo giorno di conferenza andato oggi ma non concerto là dietro molto bene dicevo oggi giornata un pochino meno interessante per me ma sicuramente molto interessante per tanti altri perché dopo gli scienziati sono intervenuti gli ingegneri che lavorano sull'adattamento al cambiamento climatico cioè su come e cosa dobbiamo costruire per cercare di adattarci al livello del mare che continua a salire la discussione è stata piuttosto accesa perché a un certo punto loro sono molto irritati dal fatto che noi scienziati parliamo moltissimo di incertezze quindi quando diamo un numero diciamo ad esempio il livello del mare entro il 2100 salirà di 50 centimetri poi diciamo più o meno 20 centimetri ecco quel più o meno 20 centimetri a loro cambia tantissimo nei progetti che devono fare per per le zone costiere e per contrastare l'inalzamento del livello del mare la discussione è diventata accesa quando il mio collega neozelandese a un certo punto ha detto sentite un po ma diteci allora che cosa volete da noi cioè volete i numeri oppure noi vi diciamo non vi diamo più numeri e vi diciamo semplicemente che il livello del mare cambierà e poi vi arrangiate però è stato molto costruttivo ed è questo proprio il la cosa bella di una conferenza come questa che mette insieme persone che fanno lavori lavori così diversi è proprio stata fatta per questo motivo questa conferenza cioè spingere persone che lavorano sullo stesso argomento cioè il cambiamento del livello del mare ma in ambienti o in discipline completamente diverse come chi fa scienza del clima o un ingegnere che deve costruire un ponte alla fine o una zona costiera deve fare delle case in una zona costiera e parlare farli parlare insieme quindi ci stiamo parlando adesso ritorno dentro perché c'è un'ultima parte molto interessante su l'adattamento delle piccole isole questa mattina abbiamo sentito l'adattamento dal punto di vista dei di ingegneri che lavorano in grandi città come ad esempio Ho Chi Minh che è un enorme megalopoli in Cina ma adesso sentiamo invece l'adattamento su piccole aree costiere piccole isole ad esempio che di fatto hanno meno possibilità anche economiche per pagare magari dei grossi progetti di dighe o di strutture che possano contrastare l'inalzamento del livello del mare e qui entra in campo il fatto che oltre comunque sempre a mitigare gli effetti del cambiamento climatico per cercare di rallentare l'inalzamento del livello del mare entra in campo dicevo anche tutto il discorso di ingegneria naturalistica cioè è molto conveniente per questo soprattutto per queste realtà che hanno meno possibilità economiche di Singapore ad esempio è molto conveniente dicevo pensare a contrastare l'erosione l'inalzamento del livello del mare tramite opere di ingegneria naturalistica quindi piantando mangrovie che ritardano che ritengono i sedimenti verso la costa e quindi combattono l'erosione costiera che deriva dall'inalzamento del mare oppure combattendo la perdita di biodiversità sulla barriera corallina perché una barriera corallina molto che funziona molto bene molto in salute è capace a frenare meglio le onde anche in situazioni o in condizioni di livello del mare aumentato quindi tutto questo di tutto questo si sta parlando ancora adesso c'è un'ultima discussione io sono venuto un attimo fuori perché sono stato tutto il giorno nell'aria condizionata a meno 40 gradi sotto zero fa anche piacere arrivare a 40 gradi sotto la pioggia ma adesso ritorno dentro domani vi do l'ultima giornata di aggiornamenti e domani diamo i numeri seguiteci perché domani vi dico i numeri di quello che ci aspetta nel prossimo futuro e se ci riesco vi faccio fare anche un breve intervento da un collega che sta studiando le onde e come cambieranno le onde nel futuro nel mediterraneo presenta domani non l'ho ancora beccato qua in giro ma so che c'è se ci ascolti se ci guardi domani ti vengo a cercare così ti faccio fare un intervento per i Sons of the Ocean ciao a tutti buona serata io questa sera sarò sul rooftop di uno di questi bellissimi alberghi perché abbiamo un cocktail della conferenza magari vi mando un'immaginina sui Sons of the Ocean dall'alto di Singapore molto bella normalmente credo che costi un sacco di soldi andare là sopra a bere una birra invece qua ce lo paga la conferenza quindi andiamo a farlo ciao a tutti ragazzi